il caffè virtuale stamani lo prendiamo con maurizio bianconi intanto è un piacere insomma ritrovarti maurizio ci diamo del tu perché la conoscenza è talmente lunga che darsi del lei sarebbe esatto perché insomma facevamo questa trasmissione con il collega fabio fravetti che oggi non lavora più con noi ma che comunque salutiamo e abbracciamo che devo dire insomma era molto seguita quindi chissà magari torneremo anche a realizzare quel tipo di contenuto ma questo caffè virtuale voleva essere ecco con te una piacevole chiacchierata su due eventi uno di cronaca e l'altro invece di politica che devo dire insomma hanno fatto scrivere probabilmente faranno ancora scrivere fiumi d'inchiostro allora partirei dalla cronaca eh giudiziaria in questo caso quindi caso Coingas anzi i filoni erano addirittura tre molti servizi poi c'era dentro anche extra insomma un bel una bella inchiesta che ha fatto come spesso abbiamo detto tremare i polsi alla politica retina fino mi verrebbe da dire al ventotto di febbraio perché poi effettivamente ecco dal punto di vista delle condanne tranne Roberto Bardelli per gli aretini Breda che insomma eh per il momento si è beccato una bella condanna ad un anno in primo grado e eh l'avvocato Rason poi per il resto insomma grandi scossoni sì tre mesi al sindaco ma ecco non non è stata certo una sentenza che ha eh determinato ecco quel terremoto che forse molti si aspettavano intanto partiamo da qui io intanto sono stato molto soddisfatto per l'esito positivo delle sentenze sia perché si ha anche se ho dei contrasti con qualcuno di loro ma conosco quasi tutti o tutti e e so quanto sia tremendo le siano tremende le forche caudine delle inchieste che poi ti paralizzano per anni certo quindi da un punto di vista personale eh sono molto 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 soddisfatto da un punto di vista mh politico direi che sono ancora più soddisfatto perché è l'ora di finirla eh con le sentenze che condizionano eh la politica eh la politica va da sé e le invasività e le invasioni giudiziarie eh non vanno mai bene rimane il fatto etico che è stato posto alla luce e il fatto etico è non è una bella storia e non è una bella pagina per l'amministrazione e per la politica retina su questo non c'è dubbio per modo di fare un po' un po' così eh un po' da facciamo è roba nostra facciamo come vogliamo eccetera eccetera lasciamo fare il linguaggio perché politica è stato come posso dire registrato eh riunioni domestiche e è andata bene che ci è passato qualche maestremia perché se c'ero io qualche moccolo per esempio scappava però eh diciamo così eh sono i contenuti che fanno un po' un po' impressione d'altronde sai io sono anche sempre molto chiaro la cultura da cui provengono più che di destra è luccheriniana e quindi non c'è da meravigliarsi ecco quindi tu ti aspettavi per come parli insomma che poi andasse a finire così l'avvocato difensore Graverini di Ghinelli ha detto nella sua ringa finale la procura ha inciampato nel sindaco la procura non lo so ora perché mi dispiace Carossi non c'è più e quindi non si può aprire neanche un fronte nei suoi confronti perché sarebbe abbastanza sleale non non essendo più della partita un po' tutta la magistratura inciampa nella 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 politica perché appena si trova la politica di mezzo la magistratura eh monta su e diventa protagonista questo non va assolutamente bene non va bene ho capito ho capito questo insomma un po' il il quadro certo questa questa condanna a Roberto Bardelli che tra l'altro ha ricevuto tanti messaggi di solidarietà lasciamo un attimo da parte la posizione di rason perché Roberto deve la condanna alla disinvoltura con la quale fa le cose più che la cattiveria troppo disinvolto troppo disinvolto però insomma ci ha detto che che ha ricevuto tanti messaggi di solidarietà poi vedremo come andrà a finire sempre lavorato per la politica ha fatto il consigliere di quartiere tanti anni prendendo un sacco di preferenze si è dato da fare col quartiere dispiace ma è troppo disinvolto cioè certe cose non si fanno lascia fare la condanna la condanna è un eccesso non va bene ma anche da un punto di vista politico non va bene con la faccenda lì ecco eticamente un attimo poi passiamo all'altra questione quindi a ellie schlane che è stata eletta segretario dem si dice così ma a me non piace molto segretario del pd direi semplicemente appunto secondo te questo questo tipo di vicenda doveva avere un proseguo dal punto di vista etico morale o va bene così perché alcuni cittadini tenuta fuori tutta la storia secondo me dove non andare tutti a casa perché c'era veramente l'indicazione di una mala gesta della cosa pubblica dice ma che dove si manda dove da meno noia mettiamo la estra non si fa così la politica non si fa così ed è quello che molti cittadini hanno scritto nei commenti insomma sotto la nostra notizia allora passiamo perché poi al tempo di un caffè maurizio passa veloce poi spero verrai a prenderlo veramente qua in redazione allora l'altra vicenda tra l'altro stavo scorrendo il tuo articolo sulla sulla vocina sempre cose molto molto interessanti ricordiamo che chi vuole ti può leggere lì nel tuo blog giusto una punto it si sta andando benissimo eh esatto ma non avevo dubbi eh tu tra l'altro oltre che avvocato sei un giornalista per cui eh ma ha telefonato a radio 24 che su quell'articolo ha fatto un servizio con milan sono stato molto contento ecco allora il titolo eh eh accattivante Elie vince attenti al lupo eh ecco perché perché quando hanno eletto Elie Schlein eh tutti eh meno ovviamente Bonaccini che che gli sarà arrivato un po' le scatole ma tutti hanno eh sono rimasti molto soddisfatti perché il la sinistra la sinistra del PD si è sentita rappresentata e avrebbe potuto tentare una riscossa i Cinque Stelle eh potevano sicuramente o possono sicuramente tentare una nuova alleanza eh col PD ma i centristi anche sono sono contenti centrosinistra perché gli si allarga lo spazio dove poteva immettere voti e consensi secondo me è rimasto contento anche Berlusconi così può tentare di sgangiarsi di uscire meno meno compresso dall'abbraccio mortale eh con Salvini e come ho scritto mhm stavo leggendo sì sì abbracciare il Matteo che gli piace no quello che non gli piace eh in più creare condizioni diverse eh con la Meloni che sicuramente eh lui non ha mai stimato granché e e la vede di malanimo sopra di lui e si e si vede insomma questo è molto evidente rivoluzionaria patinata l'hai definita sì 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 perché il 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 come come si può poi la destra al governo ha visto eh si è immaginata un partito radical chic di massa in nome eh di una gay o mezzo gay o una bisessuale eh con tutte le idee strambe e dice vedrai che qui sicuramente noi abbiamo un lungo tra l'altro tra l'altro non so come la pensi ma a me l'orientamento sessuale del segretario Deme interessa quanto no a me 4 0 insomma nel senso che basta basta che faccia il suo dovere poi insomma voglio dire che abbia fatto outing perché io sono lo sai nella pienezza dei diritti e neanche particolarmente simpatica l'unica cosa che non mi è piaciuta poco l'ho anche scritto è che quando gli hanno visto il naso ebreo come il mio eh lei ha detto no è etrusco no è ebreo come il mio e non si doveva vergognare del naso ebreo insomma ma magari non si sarà vergognata vergognare in molti insomma magari non l'ha fatta a posto ma è esatto uno scivolone per il resto invece secondo me le cose potrebbero anche non stare così perché l'entrata in campo della Schlein ha fatto diventare cambiato completamente tutta la prospettiva della politica nazionale perché la la Meloni non è più il nuovo ora non è il vecchio è il potere vecchio che ormai non ha mantenuto alcune promesse essenziali eh se è un po' allineata anzi se è allineata all'Unione Europea alla alla Fanderlion a questo eh tifo incondizionato per le armi più che per l'Ucraina eh è filo americana eh è è tutto il contrario di quello che aveva promesso è in più a dieci anni di più di questa ragazza perché lei ha 46 anni 45 46 anni che stanno a 37 quindi è molto più giovane la Schlein quindi è una donna giovane è il nuovo che viene avanti non solo ma è anche una che è più in linea con tutti i principi che girano oggi nel mondo perché sono una mamma sono cristiana sono una donna e sa molto viva la mamma di Edoardo Bennato è molto anni 50 questa invece ha detto ho avuto molti uomini molte donne mi voglio divertire ma il mio cervello non lo manda l'ammasso è una che pensa non solo sì ma è una che brava perché l'anne eletta è un'Europa l'anne eletta in 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 Emilia e l'anne eletta eh deputato si è presentata e ha vinto le primarie proprio l'ultima scalza cani non è non solo ma lei ha amicizie importanti in Italia in America è nipote di Agostino Viviani quindi c'è tutto un pensiero laico io gli ho conosciuto sia Agostino Viviani sia il fratello Arturo col quale ho fatto anche una campagna elettorale perché Arturo Viviani era cristiano si presentò con il movimento sociale Agostino era socialista non si parlava ma io ho conosciuto tutti e due tutta gente vivace di testa eh il babbo e la mamma sono due professori universitari amicizie nella borghesia è un po' come posso dire la rappresentanza di quel PD che magari soffre di linguaggio cabalbiese quest'antifascismo queste cose che però è molto di maniera perché risponde oggi secondo me a un target PD molto importante ma è un target che può conquistare chi non è andato a votare e quindi ridurre moltissimo il gap eh di differenza quindi è pericolosa per la destra io ho detto lei quando ha vinto le primarie l'aveva già usata questa frase ha detto non ci hanno visto arrivare e abbiamo vinto ecco stiano attenti che la vediamo anche questa volta sono assolutamente d'accordo parlare con te Maurizio è sempre davvero un piacere ma il tempo di un caffè non è abbastanza io direi di ricominciare le nostre chiacchierate se sei d'accordo ma io la potremmo anche chiamare come il tuo blog così poi magari la puoi anche condividere questo va bene ne parliamo poi in separata sede intanto grazie di questo caffè virtuale e ci vediamo alla prossima ciao grazie ciao